Prego, accomodatevi, benvenuti ragazzi nella mia cameretta Oggi voglio farvi vedere il mio mini, il mio piccolo cinema che mi sono creato E niente, che altro dire? Spero che vi piaccia, cominciamo questo piccolo tour E mi raccomando lasciate tanti bei mi piace Perché se questo video raggiungerà molti mi piace Vi porterò un altro video dove vi faccio vedere il resto della cameretta Perché ci sono nuovi aggiornamenti molto molto fichi che voglio farvi vedere Quindi sotto a spolliciare e partiamo Ed ecco a voi ragazzi il Golden Cinema Allora, che cosa abbiamo qui? La tv che ho recensito in passato ragazzi Su questa già ci ho fatto un video Poi, che cosa ho fatto? Ho messo dei led fighissimi qua dietro I led sono tutti questi qua Come potete vedere la cosa figa è che c'è anche un telecomando Con cui puoi decidere il colore Adesso tipo mettiamoli tutti rossi Guardate che figata eh Cioè con questa cosa la puoi fare tipo per vederti un film horror Cioè crea molto l'atmosfera questa cosa della luce rossa Mi piace anche questa viola fucsia rosa quello che è Abbiamo perfino una luce golden E devo dire che anche la luce blu crea una certa atmosfera Io di solito la lascio così che cambia automaticamente il colore Ora ragazzi vi farò vedere tutte le cose fighissime che ho messo E di ogni cosa che sto per farvi vedere vi metto il link per l'acquisto di tutti i prodotti che ci sono anche su Amazon Direttamente qui sotto nella descrizione Vi metto anche queste luci fighissime che si possono attaccare veramente ovunque Io le avevo messe anche dietro tutto l'armadio Era una figata pazzesca Tutti i link sono qua sotto nella descrizione Allora siccome il software della tv non funzionava molto bene Recentemente ho preso questa Nvidia Shield Che è una figata pazzesca Infatti ragazzi fra poco voglio farvela vedere Perché è quella che utilizzo insomma per fare tutto Ci puoi anche giocare Ci puoi vedere Netflix, Amazon, Prime Tutto Tutto e giocare perfino ai giochi del computer Tra poco ve la faccio vedere il link in descrizione Poi per l'effetto surround cinema ho scelto questa cassa della Sony Fighissima Qua sopra è fatto tipo in pelle Infatti mi piace troppo toccarla Cioè è troppo bello Ha anche i bassi integrati Ma io non contento Ho deciso anche di collegarci questo bassone qua gigante Per creare ancora di più un effetto cinema Ora vi faccio sentire un po' l'effetto cinema Le casse ragazzi si sentono veramente molto bene Creano un'atmosfera a dir poco figa Le casse sono intestate, non le persone Soprattutto con i film horror è un'antigata Certo c'è da dire che ti caghi sotto dalla paura però Cos'altro possiamo fare con questo shield? Di tutto Ci sono tantissimi giochi Aspettate vi faccio vedere qualche app Allora abbiamo Nvidia Games, Netflix, Youtube, Prime Video Google Film qua Google Play Store per scaricare altre app Puoi fare veramente di tutto Adesso vi faccio vedere qualche gioco C'è abbiamo pure Fortnite E la cosa figa A parte che ti regalano un sacco di giochi all'inizio Tipo questo Batman me l'hanno regalato E poi non li devi nemmeno scaricare Ecco Fortnite, Sonic, Tomb Raider, PES Ci sta veramente di tutto ragazzi Veramente Ora sto avviando Batman Nel frattempo ragazzi se volete dare un'occhiata A questo Nvidia Shield vi metto il link qua sotto nella descrizione Guardate che figata ragazzi Guardate qua Che figata ragazzi Poi c'è giocarci con sta cassa E' ancora più figo E poi c'è Ci stai veramente dentro E' come se esistessi nel gioco E questa la figata Se vuoi davvero arrivare a Cesaro Plaza in tempo Per trovare di nuovo Il guido Dovrà partire presto Sì parto parto Non ti preoccupare Ah non vi ho detto che volendo posso anche parlare con la tv Che tempo fa? Adesso a Tivoli ci sono 19 gradi e cielo sereno Figo eh Ok ragazzi direi che può essere tutto Quindi spero che il mio piccolo cinema Vi sia piaciuto Se mini cinema si può chiamare Però a me piace chiamarlo così Quindi spero che vi sia piaciuto Se volete un tour totale della cameretta Vi invito a lasciare tanti bei mi piace Se raggiungeremo un gran numero di mi piace Vi porterò questo nuovo video Trovate tutti i link delle cose che vi ho mostrato Qui sotto nella descrizione Lasciate tanti commenti E noi ci vediamo alla prossima Ciao ciao Ciao